ciao navigatori nella mitologia norrena la creazione del mondo è raccontata attraverso una serie di miti e leggende affascinanti uno degli elementi centrali di questa narrazione è yggdrasil l'albero cosmico che simboleggia l'universo stesso secondo la mitologia norrena all'inizio c'era un grande abisso vuoto chiamato ginungan kep da questo vuoto emersero due regni primordiali niflheim una regione di ghiaccio e nebbia e maspelheim una terra di fuoco e lava lo scontro tra il freddo di niflheim e il calore di maspelheim creò il gigante di ghiaccio ymir considerato il progenitore del regno dei giganti yggdrasil l'albero cosmico fu poi creato come connessione tra i vari regni dell'universo questo maestoso albero si estende attraverso i nove mondi della mitologia norrena le sue radici sono immersi in tre luoghi il pozzo di urd che rappresenta il passato il pozzo di mimir che rappresenta la saggezza e il pozzo di vergel mir una sorgente di potenti fiumi l'albero stesso è abitato da creature mistiche come in nifroghe un drago che rosicchia le radici e un'aquila che si posa sulla sua cima yggdrasil diventa quindi anche il percorso per le creature divine come gli dèi esir e i vanir che lo utilizzano per muoversi tra i regni yggdrasil svolge anche un ruolo importante nella mitologia norrena poiché simboleggia l'interconnessione tra gli esseri e la forza dell'universo essa simboleggia anche l'equilibrio tra diverse entità e continuità del mondo il concetto di yggdrasil e del grande abisso riflette l'importanza della natura e dei suoi cicli sulla mitologia norrena evidenziando la complessità e l'interdipendenza degli elementi che costituiscono l'universo nella mitologia norrena yggdrasil è considerato l'albero cosmico che simboleggia l'universo nel suo insieme è un albero imponente e sacro che connette i nuovi mondi della cosmologia norrena yggdrasil viene spesso descritto come un grande frassino come un albero diabete ma la sua forma esatta non è specificata chiaramente nelle fonti mitologiche le sue radici si estendono in diverse direzioni e sono immerse in tre portanti luoghi il pozzo di urdu quello di mimir e il pozzo di vergel mir le radici che si immergono nel pozzo di urdu rappresentano il passato il pozzo di mimir rappresenta la saggezza e il pozzo di vergel mir è una sorgente di potenti fiumi l'albero stesso si erge nel centro dell'universo collegando i regni degli dei dei degli uomini dei giganti yggdrasil serve come punto d'incontro e connessione tra diversi regni e diverse entità dell'universo norreno è spesso associato all'idea di equilibrio e la continuità del mondo alcuni miti suggeriscono che la stabilità e la sopravvivenza dell'universo dipendono dalla saldezza di yggdrasil l'immagine di quest'albero cosmico che simboleggia l'universo rappresenta il profondo rispetto e la connessione che i norreni avevano con la natura il loro ambiente l'albero stesso è considerato sacro e viene menzionato in molte fonti mitologiche come elemento fondamentale della cosmologia norrena yggdrasil svolge un ruolo cruciale nella mitologia dei norreni come simbolo dell'interconnessione tra gli esseri umani e le forze dell'universo questo albero cosmico è considerato il fulcro dell'intero mondo nordico e colleghi diversi regni e mondi della cosmologia norrena simboleggia l'equilibrio e l'armonia tra gli elementi naturali e le diverse entità dell'universo le sue radici immerse in tre importanti pozzi rappresentano l'essenza dell'esistenza tra cui il pozzo di vel germir è associata alle potenti forze naturali inoltre yggdrasil connette il percorso degli dei agli esseri umani e altre creature divine consentendo loro di viaggiare tra i mondi questo collegamento tra i regni permette lo scambio di conoscenze influenza interazioni tra diverse entità l'importanza di yggdrasil nella mitologia non rena sottolinea l'idea di un'interconnessione profonda tra tutti gli esseri viventi e le forze naturali questo concetto riflette la visione nordica dell'universo come un sistema interdipendente in cui ogni identità ha un ruolo e una responsabilità nei confronti delle altre yggdrasil rappresenta quindi non solo un elemento fisico nell'universo norreno ma anche un simbolo potente dell'unità dell'interconnessione tra gli esseri e le forze dell'universo nella mitologia stessa se questo video ti è piaciuto lascia un like alla prossima ciao grazie a tutti